Interrogarsi sulla democrazia non è un esercizio specialistico riservato esclusivamente ad accademici e politologi, categoria quest'ultima che in Italia in modo particolare conta una schiera ampia e numerosa di testimoni e protagonisti. Interrogarsi sulla democrazia diventa quasi un dovere dei cittadini, della comunità se e dallo stato di salute della democrazia dipendono le nostre sorti personali e collettive, non solo, più ampiamente dallo stato di salute della democrazia dipendono anche i nostri progetti, i nostri sogni, insomma la possibilità di affermare in equilibrio ed anche in competizione con gli altri la visione che abbiamo sulla nostra vita e del contesto nel quale vogliamo che essa si svolga. Parleremo oggi, a senti chi parla, di un libro che parla proprio della democrazia, la parabola della democrazia italiana dalla rappresentanza alla rappresentazione ospite di senti chi parla, benvenuto Salvatore Pignataro, giornalista, autore di questo libro, di questo saggio potremmo dire che si articola diciamo così in due sezioni organicamente collegate tra di loro, quella di scenario affidata a Giuseppe Acocella che insegna teoria generale del diritto alla Federico II di Napoli, a Franco Musella, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della stessa Università della Federico II a cui fanno seguito interventi critici di Francesco Saverio Matteo, Franco Vittoria e Andrea Covotta e poi diciamo così il saggio vero e proprio, il cuore del saggio che Salvatore Pignataro svolge partendo attraverso non solo la ricostruzione del concetto di democrazia ma soprattutto nel concreto andando ad analizzare anche minuziosamente il vivacissimo dibattito che c'è stato alla fine della guerra, alla fine del fascismo nella commissione dei 75 che costruirono le regole, i principi, le basi della nuova democrazia italiana. Ecco Salvatore, se però volessimo cominciare a dire una cosa, qual è uno degli elementi diciamo così dominanti o scatenanti che ha portato in Italia e nel continente europeo a farci dire che la democrazia oggi è in crisi? Ce ne sarebbero tanti, so bene, però vediamo di dirne qualcuno che possiamo toccare subito con mano. Allora intanto Alberto c'è da dire una cosa, la valutazione e la scienza politica comporta una pulizia concettuale, questo è uno dei primi elementi per chi analizza questo settore, oggi è molto attuale il tema della democrazia rappresentativa perché sicuramente non solo come termine di paragone tra come dicevi tu i nostri costituenti e quindi un rapporto tra la storia diciamo della nostra nazione e quindi da tanti anni che sono passati ma poi soprattutto sono tanti elementi complessi che hanno portato a questa degenerazione che appunto non danno un'agibilità democratica al nostro paese come probabilmente i nostri costituenti si erano auspicati. Questo un po' ha vari fattori, fattori complessi, noi questo argomento abbiamo cercato di affrontarlo io soprattutto nello studio complesso a seguito della scuola di altri studi politici che ho frequentato per due anni, mi accingo a frequentare il terzo quest'anno perché il punto è che ti chiedi dei perché su delle cose. Abbiamo analizzato ad esempio il crollo del ruolo dei partiti che è molto importante, abbiamo analizzato la sfiducia dei cittadini verso la politica, abbiamo analizzato la questione delle leggi elettorali, abbiamo analizzato tutte queste dinamiche che comunque creano e comportano un punto essenziale per l'agibilità politica nazionale e anche internazionale perché che è conseguenziale su questo? Il cuore un po' del ragionamento e del problema che è anche diciamo così annunciato nel titolo di questo saggio cioè dalla rappresentanza alla rappresentazione. Nel saggio giustamente si fa questa distinzione che non è diciamo così soltanto sottile e quantomeno non è di poco conto cioè la rappresentanza non sempre e non necessariamente coincide con la democrazia, punto principale. E poi in ogni caso dalla rappresentanza alla rappresentazione, qui c'è il passaggio visibile della crisi, la rappresentazione che cos'è? E' quella appunto rispetto alla crisi dei partiti, delle organizzazioni che conoscevamo, di leaders praticamente che puntano sulla immagine, su una comunicazione semplificata, sulla mediatizzazione diciamo così del messaggio politico e quindi con tutte le semplificazioni e spesso anche con tutte le raffazzonature che questo messaggio finisce per contenere. Allora, indubbiamente c'è da dire una cosa, come ben dicevi tu, prima i partiti politici associavano gli iscritti militanti intorno a un'idea. Adesso questo è un po' tramontato perché se tu chiedi ad un esperto, ma dico anche a un cittadino comune, quale ideologia rappresenta uno dei partiti attuali avrà difficoltà a risponderti. Quindi questo la dice lunga anche su tutte le conseguenze che tale condizione ha portato. Poi sicuramente c'è la questione dei leader, come dicevi tu, un leader politico non solo per le capacità di comunicazione, di visibilità, ma il problema è che il partito non viene gestito più come prima in maniera collegiale, in maniera condivisa, ma viene gestito probabilmente in maniera autoreferenziale e questo va a bloccare un pieno coinvolgimento anche dell'attore politico. Io ti faccio un esempio. C'è anche una sorta di tradimento del dettato costituzionale, tra poco parleremo di popolo e di sovranità, non a caso. Appunto, quindi volevo dire, nell'interrogativo che io mi facevo, con quale autonomia oggigiorno un deputato eletto può esercitare liberamente il proprio mandato? Se non ha da dare risposte a chi lo ha fatto eleggere. Quindi voglio dire, se non ci sono anche su questo degli elementi che vanno sicuramente rivisti, vanno sicuramente riguardati, è chiaro che l'agibilità democratica del Paese viene sempre più sfilacciata. Un altro elemento che ci fa riflettere sulla crisi della democrazia è proprio chi rappresenta il popolo. C'è anche per tutta una serie, soprattutto negli ultimi anni, di leggi elettorali che hanno badato, avrebbero voluto badare più alla governabilità che alla rappresentanza. Il distacco è aumentato anche proprio fisicamente tra l'eletto e gli elettori. Però un altro elemento che ci fa riflettere sulla crisi della democrazia e della politica in effetti è proprio questa tendenza che si afferma, il riferimento non è tanto e solo ai 5 Stelle, è un po' più generalizzato, cioè il rappresentante deve essere uno che deve essere il mio portavoce. In realtà non è così. Il rappresentante degli elettori è il rappresentante di interessi, di sogni, di progetti, di esigenze di un territorio, ma è anche una persona che pensa con la propria testa, che ha una propria volontà e questo riesce difficile. Questa cosa sta scomparendo perché a sua volta il rappresentante, l'eletto, anziché stare davanti, si pone dietro. È un po' come il pastore che vuole guidare il greggio stando appunto dietro e non davanti, insomma non si capisce più niente. Sicuramente. Le direzioni che prende il greggio sono più strane. Questo è un dato essenziale perché è chiaro che l'eletto deve portare con sé le istanze di un territorio e purtroppo attualmente, insomma, malgrado tutto con questa legge elettorale purtroppo questo non capita perché sappiamo tutti il metodo e le condizioni per le quali insomma si va a stabilire una candidatura e quindi sicuramente è difficile scontrarsi con il territorio, è difficile mettere in campo una legge elettorale che possa coinvolgere tutti perché scontrarsi con il territorio, Norberto, vuol dire mettersi in discussione, vuol dire evidenziare anche le qualità delle persone. Io dico una cosa soltanto, mentre nelle democrazie occidentali di legge elettorale ne sono state fatte pochissime o forse una, in Italia purtroppo ogni governo, ogni maggioranza che va, cerca di ricucire la legge elettorale rispetto al proprio bisogno, alle proprie esigenze, insomma, allora le regole vanno scritte in maniera condivisa ma facciamole anche durare, insomma, con il buon senso di tutti, questo è il punto. Questo vuol dire che, insomma, il grado di maturazione, insomma, della nostra classe dirigente dopo la grande, il grande epocale passaggio a cominciare, a partire dalla Commissione del 75, è andata via via scemano. Le cause esterne, diciamo così, che hanno dato spallate alla democrazia nel nostro paese, secondo te quali possono essere state? A parte, diciamo così, anche una sorta di ignavia da parte delle classi dirigenti degli ultimi vent'anni. Ora, sicuramente da un'analisi così molto semplicistica, come dicevo prima, io credo che molte, molta di questa, di queste dinamiche vengono gestite dalla classe dirigente, cioè da chi è preposto, soprattutto, insomma, appunto a fare le leggi e quindi a disciplinare quelle che non solo, non parlo solo delle leggi elettorali, ma a gestire un po' l'ordinamento dello Stato, quindi, diciamo, la capacità di chi ha un ruolo di esercitarlo in maniera ineccepibile, in maniera perfettibile, diremmo così. L'altro aspetto è la sfiducia che i cittadini hanno verso la politica e bisogna chiedersi perché. Praticamente io, ad esempio, sono tra quelle persone che crede, ad esempio, che va mancando sempre di più l'etica in politica. Oppure, come diceva Aristotele, in molti casi è prevarso il bene individuale al bene collettivo. Quindi tutta questa serie di cose, cioè della condizione, diciamo, non trasparente, non cristallina di chi esercita una funzione, un ruolo, oppure di chi deve fare delle scelte per conto di altri, non sempre porta i suoi frutti. E quindi questo qui va ancora di più a scollare il rapporto tra i cittadini e la politica, la disaffezione tra i cittadini con la politica. E poi c'è un altro dato. Allora, il ruolo centrale sono anche, come dicevo prima, i partiti politici. I partiti politici prima formavano una classe dirigente rispetto a delle competenze, rispetto a una formazione, tenendo conto anche delle inclinazioni della persona e con un'ideologia che si portava avanti per costruire nel miglior modo quelle che erano poi la condizione generale di tutti. Adesso purtroppo non è così. Altri due capitoli molto interessanti ed estremamente attuali che ci riportano anche, diciamo così, alla cronaca e al dibattito politico di oggi è il vincolo di mandato, nasce questa definizione grazie a Edmund Burke che viene appunto ricordato nel saggio discorso agli elettori di Bristol e poi la rottura del patto elettorale e quindi la reazione dei cittadini. Sono due temi estremamente legati questi salvatori. Sicuramente sì, perché, come dicevamo prima, bisogna stabilire le regole. Ad esempio noi abbiamo trattato anche nella scuola di altri studi politici la questione della trasfigurazione, del trasferimento di casacca, dei trasformisti cosiddetti. Per questo però c'è bisogno che vengano rivisti i regolamenti parlamentari perché anche questo può essere un tradimento. Io vengo eletto con un partito e passo con un altro partito solo perché probabilmente vedo gli interessi miei personali di carriera politica, di condizione rispetto al mandato che mi hanno dato gli elettori. Ti sorprenderò ma io sono favorevole al vincolo di mandato perché i casi, diciamo così, di trasfughi, di trasformismo monetizzato, mettiamola così, sono davvero molto pochi. In una democrazia adulta il parlamentare, il rappresentante del popolo deve anche essere libero di decidere di stare o di non stare più in una caserma se quel partito, se quel gruppo parlamentare diventa una caserma. Dico questo perché i casi, diciamo così, di passaggi, di cambi di casacca che vengono, come dire, caratterizzati dallo scambio materiale di utilità Bisogna vedere certo le eccezioni sicuramente. Sono molto pochi. C'è sempre la l'eccezione. Vero è che ci sono convenienze, diciamo, di gente che senza ricevere un'immediata utilità cambia casacca. Però, insomma, per stare alla definizione di una democrazia abbastanza adulta io credo sia giusto che il parlamentare, ad un certo punto, nel momento in cui scopre di stare in una caserma, dice io non ci sto, me ne vado. Ad esempio, importante è anche questa legge di riforma sui partiti che ferma al Senato, appunto a giugno 2016, mi pare che sia stata trasferita al Senato e quindi non perché possa stravolgere attualmente quello che è il sistema però è importante che i partiti che sono delle entità private delle regole organizzative, statutarie, che devono essere in linea con i principi costituzionali No, perché è anche un paradosso, Norberto, perché il partito politico che è un'entità privata e che ha una funzione pubblica allora istituzionalizziamola, cioè non vedo perché, voglio dire, questo non si deve fare come ad esempio io ho anche in appendice nel libro citato dell'eventuale esigenza di disciplinare lo strumento delle primarie, molto importante cioè se uno scrive delle regole evitiamo poi i casi come sono successi di insomma brogli, di condizioni particolari quindi questi sono tutti strumenti che portano a una agibilità democratica ad un aumento della democrazia rispetto alle forme certo governative che non solo sono queste, poi in un paese ci sono anche altri tipi di situazioni complesse però almeno insomma per un 60-70% sono degli indici molto importanti che appunto possono stabilire in un paese quello che è il percorso da fare anche questa è una dimenticanza se non proprio una stranezza molto italiana la sovranità appartiene al popolo, l'articolo 2 della Costituzione che la esercita attraverso ed è ben strano che lo strumento attraverso il quale si esercita la sovranità popolare in qualche modo, tranne per casi diciamo così di codice penale non debba rispondere di niente mi pare una contraddizione davvero in termini che andrebbe finalmente sanata Salvatore citava le primarie parliamo di elezioni che è un altro tema nel nostro paese soprattutto in questi anni estremamente ricorrente si dice, naturalmente c'è un accento, una caratterizzazione politicamente propagandistica dice, sono quattro governi che il popolo non elee sappiamo che non è così perché il sistema non è quello dell'elezione diretta del premier non è una repubblica presidenziale e quant'altro però insomma il cittadino sente questa necessità però come viene anche ricordato, sottolineato nel saggio come viene studiato in questo saggio non sempre, le elezioni significano il continuo ricorso alle elezioni significa che la democrazia sta bene anzi forse un continuo ricorso alle elezioni significa che la democrazia ha bisogno, sta cercando una via di fuga indubbiamente, è un po' come la metafora del medico è chiaro che il medico interviene quando il malato ha bisogno di prendere le medicine in termini metaforici possiamo dire che sicuramente se il medico si accorge che una patologia può essere curata e gestita solo attraverso l'alimentazione solo attraverso una cura palliativa sicuramente non si fa ricorso alle medicine ma questo dipende poi dai casi anche perché la stabilità politica sappiamo tutti insomma in Italia che purtroppo è dovuta anche all'interno dei partiti ritorniamo sempre allo stesso ragionamento dai discorsi che si fanno verticistici nei partiti che ti vanno a stravolgere quelle che sono le condizioni e le posizioni per poi proiettarle nell'ambito decisionale parlamentare quindi voglio dire bisogna scrivere delle regole anche abbastanza chiare abbastanza certe io per esempio quando ascolto questi temi sulla riforma della legge elettorale dico che sicuramente ci vuole una legge elettorale che abbia un'armonia tra Camera e Senato perché pare che se ne siano accorti ultimamente pare che se ne siano accorti perché voglio dire andare al voto con una legge che non cambia niente che porta allo stesso sistema non vedo quale beneficio possa esserci per l'Italia un'ultima cosa Salvatore Pignataro magari che potremo approfondire quando questo libro che sta avendo insomma un buon successo sta incuriosendo e interessando verrà presentato anche ad Avellino a Villamendolo mi pare il 3 marzo il 3 marzo lo presenteremo ad Avellino e poi domani sono a Salerno all'Accademia Grassi e magari parleremo anche di un altro aspetto che qui trovo nel saggio c'è ma c'è tra le righe e cioè che in fondo anche la crisi della nostra democrazia i problemi che abbiamo forse dipendono e bisognerà valutare in che senso in che misura anche dal fatto che la prima parte della Costituzione torniamo al referendum del 4 di dicembre scorso che la prima parte della nostra Costituzione è molto impegnativa e forse questo essere molto impegnativa carica la seconda parte della Costituzione cioè quella della organizzazione dello Stato come deve funzionare lo Stato e lo Stato deve funzionare sulla scorta dei principi che sono scritti nella prima parte e beh questo ha provocato nel nostro paese diciamo così delle uno scollamento uno un grande scollamento perché organizzare i principi della prima parte sotto forma di governo è cosa abbastanza ardua e difficile questo è un tema importante e te l'ho detto sicuramente c'è una connessione un tema conseguenziale tra chi è preposto a fare le leggi e quindi a dettare quelle che sono le condizioni normative e chi invece è preposto ad osservarle qualcuno nella commissione dei 75 questo problema se lo pose dice attenzione a a definire principi che rischiano poi di essere astratti quando poi dobbiamo organizzare il funzionamento di questi primi nacque il problema su molti articoli della Costituzione in molti casi c'è qualcuno che direbbe che le leggi le fa chi non è mastico chi non le capisce in maniera molto molto spessa è così perché appunto in politica io credo che sia fondamentale la questione della competenza della preparazione dello studio della scienza politica perché capire le dinamiche è importante poi per governare i processi come solitamente dovrebbe essere fatto quindi indubbiamente ci sono delle delle condizioni per tornare anche a quello che dicevamo prima tra chi è preposto appunto a governare quindi chi è preposto al governo al Parlamento e quindi a dare delle indicazioni ma c'è anche un'altra faccia della medaglia molto importante Norberto che è quella della struttura dello Stato perché anche lì c'è da ricercare la mancata fiducia o la sfiducia dei cittadini diciamoci anche la verità è lì che nasce appunto la fiducia anche dalla disfunzione dell'ufficio pubblico voglio dire o dalla disfunzione dei servizi il cittadino viene sfiduciato quindi uno più uno fa due questo è tutto grazie grazie a Salvatore Pignatari non so se grazie a te abbiamo fatto vedere il libro la copertina del libro ve la ricordo la parabola della democrazia italiana dalla rappresentanza alla rappresentazione edizione il papavero un saggio consigliato a tutti ma soprattutto che mi lo consigliamo ai più giovani a chi studia scienze politiche e anche a chi non studia scienze politiche è una lettura curioso di questa dinamica è una lettura molto molto agevole molto convincente in cui si mischiano le questioni politiche ma anche la storia di questo nostro paese si tenta di rimettere in piedi un filo un po' più resistente per riprendere per riprendere il ragionamento sulla democrazia sulla democrazia italiana grazie a Salvatore grazie a te Pignatari in bocca al lupo per le presentazioni di questo libro e per la sua diffusione grazie ai colleghi che hanno lavorato con me a questa puntata di senti chi parla naturalmente grazie a voi che avete voluto seguirci ci vediamo con senti chi parla lunedì prossimo nel frattempo godetevi un buon fine settimana arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.